Buonasera e benvenuti a questo nuovo one to one. Abbiamo ospite quest'oggi qui nei nostri studi con lei che ormai posso chiamare candidata alle primarie del centro-sinistra di Borgo San Lorenzo, Sonia Spacchini. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Insomma era già sentore, era già nell'aria da qualche giorno anche io vado a leggere insomma un suo post sulla pagina di Facebook dove diceva ci sono momenti della vita in cui siamo chiamati a fare delle scelte, siamo chiamati a metterci in gioco e a rischiare. Questo accade in Italia come qui a Borgo San Lorenzo. Io ci provo, io ci sono perché credo che ci sia un'intera generazione che può dimostrare quanto vale, che ci mette la faccia. Non possiamo sempre solo lamentarci e tirarci indietro, il futuro lo costruiamo noi, proviamoci. Insomma già questo era un lancio in qualche modo di una disponibilità alla candidatura, arrivata proprio nei giorni scorsi quando ha insomma l'ha ufficializzata, ha rassegnato le dimissioni da segretario, ha consegnato il mandato nelle mani dell'assemblea di Borgo San Lorenzo e questa è un po' l'ufficialità in attesa ovviamente poi della scadenza presentazione firme. Com'è nata insomma e ovviamente se me lo conferma, mi conferma tutta questa ricostruzione. Sì, diciamo che la ricostruzione è corretta. Devo dire che sono stati mesi belli e impegnativi perché quando sono diventata segretaria, quando il mio circolo mi ha chiesto, se non erro a ottobre dello scorso anno, di fare il segretario del Partito Democratico di Borgo, per me è stato davvero un grande onore, oltre che un impegno notevole per il periodo politico e storico che stiamo attraversando. L'ho fatto ovviamente mettendo a disposizione le cose che potevo, l'impegno che avevo e anche le capacità politiche e non soltanto che avevo maturato in questi anni di attività. Successivamente ci siamo confrontati a lungo con tante persone, non solo del nostro circolo, ma per capire anche un po' qual era l'umore del nostro comune. È diventato a un certo punto evidente, io devo dire che mi sono a un certo punto posta una domanda, forse anche una domanda di vita, perché fare una scelta di questo tipo investe la politica, ma poi investe le persone prima di tutto. C'è stata una richiesta, devo dire anche forte, ma anche se non pubblica, ma ho colto davvero l'esigenza da parte di quelle tante persone che in questi anni hanno condiviso l'attivismo politico con me, hanno condiviso l'entusiasmo della nascita del Partito Democratico, si sono messe in campo, si sono date da fare, hanno messo davvero la loro faccia a disposizione di un progetto innovativo nel panorama politico nazionale come quello del PD e ovviamente anche a Borgo. L'interrogativo era questo, noi ci siamo, ci siamo sempre stati, abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto un bel percorso insieme, non possiamo, non vogliamo arrivare a questa scadenza e dare l'impressione che il PD non abbia costruito qualcosa. Il PD ha costruito tanto, evidentemente queste persone, questi giovani ragazzi e ragazzi e non soltanto che hanno colto questa innovazione che il PD ha sempre provato a costruire, ha sempre costruito e mi hanno detto che in fondo sei la persona che più di tutti ha fatto esperienza, ha maturato competenze e capacità e quindi aspettiamo solo che tutti metta a disposizione. Ecco insomma c'era tanto parlare, nel senso il fermento si sentiva e si percepiva, si aspettava soltanto l'ufficialità di questo probabile nuovo nome candidato alle primarie del centro-sinistra perché saranno comunque primarie di coalizione ovviamente con i partiti che attualmente amministrano Borgo San Lorenzo insieme alla giunta Bettarini e quindi insomma si aspettava un po' questa ufficialità. Attualmente insomma si procede con la raccolta delle firme, quindi soltanto alla scadenza della finestra tra il 27 e il 30 di gennaio si saprà effettivamente quanti sono i candidati per il PD? Sì, non c'è dubbio. Ecco, noi abbiamo un regolamento, un regolamento regionale che individua delle regole. Noi abbiamo deciso senza devo dire alcun tipo di esitazione o discussione perché non siamo appassionati a discussioni a volte anche un po' sterili su norme e quant'altro ma visto che il nostro partito aveva individuato modi per individuare le candidature del nostro partito di fronte a primarie di coalizione se ovviamente il partito non aveva un candidato unico, quindi abbiamo adottato quelle norme, quindi il 31, credo anzi, il primo di febbraio alla fine avremo l'ufficialità di fatto di quanti saranno i candidati del PD. Io questo ci tengo davvero perché in definitiva sono stata segretario fino a ieri, insomma, fino a poche ore fa e ho voluto davvero rimettere nelle mani di coloro che mi hanno votato, quindi degli iscritti del nostro partito per questo periodo, dopo le primarie faremo una valutazione e anche proveremo a capire come affrontare questo ma mi sono voluta togliere e togliere anche gli altri dall'imbarazzo. Voglio dire, non mi candido o solo perché sono la segretaria quindi rimetto questo mandato perché tutti i candidati del PD hanno ovviamente la stessa legittimità e perché no anche rappresentano Quindi insomma non si tratta di una candidatura di partito perché non ci sono candidature di partito, ci sono candidature all'interno del Partito Democratico È evidente, sì, è evidente che questo è chiaro che di fronte a primarie di coalizione, lo ripeto, nel caso in cui si fosse riusciti o si reputava più opportuno individuare un solo candidato, quello sarebbe giocoforta stato l'unico candidato del PD Visto che non credo che così sarà, credo che ci siano altre persone che avranno voglia e cercheranno di raccogliere le firme appunto non voglio che passi l'idea o il messaggio che sarebbe davvero errato, che qualcuno è più legittimato di altri Non è affatto così, ecco Ecco, le primarie di coalizione a questo punto insomma 9 di marzo con eventuale turno di ballottaggio fondamentalmente a seconda insomma di quelle che saranno poi le decisioni prese insieme agli altri partiti Sì, ecco, anche il regolamento è stato discusso a lungo insieme alla coalizione Siamo serenamente arrivati ad individuare appunto anche le norme di dettaglio, le stiamo definendo insieme anche gli altri partiti faranno i loro processi decisionali ovviamente poi chiaramente renderemo anche pubblico il nostro regolamento e tutte le norme che insomma stanno legate a questa consultazione elettorale che guardate io credo per Borgo San Lorenzo siano davvero un momento storico importante perché non solo i partiti di centrosinistra ma nessuno ha mai proceduto in questi decenni passati ad individuare la proposta e quindi il candidato sindaco con un metodo aperto in questo modo Io credo davvero che le primarie, lo abbiamo sempre visto insomma, ma davvero rappresentino un valore aggiunto perché credo che le persone vadano coinvolte, vadano ascoltate ovviamente sulle persone ma poi anche io sono molto convinta anche sui programmi Ecco, passando poi parleremo anche di programmi, di come state costruendo insomma il programma come Partito Democratico se ha già qualche idea, qualche suggerimento da dare da questo punto di vista però ecco, per chiudere il discorso sulla gestione in qualche modo del PD borghigiano attualmente diciamo così la poltrona di segretario quindi rimane vacante e in attesa di prossime consultazioni anche da questo punto di vista? Sì, io ho chiesto al nostro segretario metropolitano di aiutarci anche ad individuare un modo per arrivare alla fine della consultazione delle primarie quindi lo inviteremo a breve anche a Borgo San Lorenzo per discutere e fare una proposta anche al nostro circolo perché comunque un minimo di elemento organizzativo è un punto di riferimento in ogni caso anche durante le primarie nonostante che poi il protagonismo gioco forza sia assunto dalle persone in campo ma il nostro partito ha bisogno ovviamente di un punto di riferimento Perfetto, ecco, passando poi, insomma, una scelta tra l'altro, insomma, obbligata quella di dimettersi, insomma, in caso di candidatura o è stata proprio, cioè, una scelta sua proprio per evitare qualsivoglia fraintendimento? No, esatto, la scelta è stata tutta mia, devo dire devo dire anche, insomma, come è normale in questi casi non tutti neanche sono d'accordo penso perché intanto abbiamo un partito che per esempio in uno dei primi articoli del suo statuto dice che chiaro si parla di un altro livello di partito istituzionale ma che per esempio il segretario è il candidato insomma, sappiamo, abbiamo sentito anche le discussioni Sì, le discussioni ce ne sono state tantissime però ecco, diciamo, niente affatto cioè non è che improvvisamente diventa una stranezza che un segretario sia un possibile candidato Ma sarebbero stati comunque sia compatibili la carica cioè nella candidatura o l'eventuale carica di sindaco e poi il ruolo di segretario da statuto del Partito Democratico Ecco, mi trovi leggermente Vabbè, allora, non lo so io credo sia una questione di opportunità politica è opportuno che ognuno abbia il suo ruolo e che lo interpreti nella maniera più serena possibile il doppio ruolo, soprattutto nello stesso comune mi sembra... Quindi al di là dei regolamenti insomma, sta proprio a quella che è la sensibilità all'opportunità politica delle scelte personali Sì, esattamente Quindi, insomma, di lì la scelta di prima ancora delle primarie di rimettere ovviamente il suo andato nelle mani dell'Assemblea Veniamo al programma perché, insomma, poi il programma è quello fondamentale suppongo che come Partito Democratico in generale siate in qualche modo alla discussione su una Borgo San Lorenzo del futuro una Borgo San Lorenzo che sarà una Borgo San Lorenzo almeno una visione di una, diciamo così di una decina d'anni se uno vuole mettere in campo qualche progetto come immagina la Borgo San Lorenzo del 2019 Sì, esatto Io da segretaria fino ai giorni scorsi appunto dicevo che è un argomento su cui bisogna entrare nel merito e dobbiamo farlo pensando guardando a un periodo lungo per l'appunto il 2019 nel senso noi dobbiamo candidarci a dire sul lungo periodo dove vogliamo condurre il nostro paese dove, dico di più secondo me, dove vogliamo portare il Mugello non tanto perché questo sia a carico solo del comune della città di Borgo ma perché stiamo in una discussione collettiva e tutti insieme dobbiamo individuare le strategie e i punti di forza migliori perché, guardate, noi viviamo in un territorio straordinario abbiamo la fortuna di vivere qui di svolgere qui i nostri interessi e dobbiamo prendercene cura dobbiamo tutti insieme capire come tuteliamo alcune straordinarie risorse che abbiamo e come riusciamo invece anche non invece anche ad investire sulle straordinarie risorse che abbiamo Ecco, ci sono dei progetti cioè un primo progetto che comunque sia a livello di programma è emerso se li avete già fatti negli incontri eventuali che avete tenuto Allora, il Partito Democratico qui parlo diciamo che vi fa un racconto dei mesi scorsi abbiamo iniziato con fronti di merito ovviamente con tanti pezzi della nostra società civile come si dice anche le realtà e soprattutto le realtà organizzate è del tutto chiaro che questo ci aiuterà a costruire una cornice di coalizione una cornice di governo che però non avrà caratteri di dettaglio gioco forza io sono molto convinta che Borgo San Lorenzo abbia bisogno e lo farò quanto prima di coinvolgere le persone to cure in una discussione e tirar fuori da quelle persone dalla loro esperienza dalla loro anche dal loro particolare punto di osservazione le esigenze i bisogni di Borgo e anche le strategie per Borgo quindi credo che prima di tutto dovremo io lo farò in questo percorso che ci condurrà da qui al 9 di marzo coinvolgere le persone per discutere insieme di cosa fare come farlo e quali proposte davvero avanzare ecco si parla appunto di cornice di programma una cornice all'interno della quale poi i partiti della coalizione dovranno stare perché ovviamente il programma elettorale sarà approfondito poi in separata e successiva sede cioè in vista delle prossime elezioni amministrative quindi cioè principalmente per le elezioni o comunque per le primarie di coalizione qual è diciamo così secondo lei la specifica delle primarie cioè nel senso si va verso un programma unico ci saranno dei distinguo che vanno quindi al di là della scelta di un nome ma anche di un'impostazione io credo che non si possa semplicemente scegliere le persone dobbiamo anche scegliere delle idee delle priorità che queste persone vogliono rappresentare quindi è chiaro che anzi io auspico che la nostra coalizione abbia dei principi e degli diciamo dei punti forti condivisi e sono certa che ce l'ha insomma dopodiché ogni candidato metterà l'accento e sottolineerà gli interessi le cose che scusate gli interessano di più e che crede abbiano anche un valore aggiunto cosa si aspetta per prego 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 cosa si aspetta per queste primarie insomma ormai siamo al via allo start io credo che la forza maggiore delle primarie sia riuscire a coinvolgere le persone dunque il primo obiettivo che io mi pongo e che mi auguro tutti gli altri candidati che ci saranno poi alle primarie si debbano porre è quello del maggior coinvolgimento possibile delle persone e questo è un obiettivo detto questo mi auguro anche che i borghigiani abbiano e questa è poi la ragione anche per cui ho deciso di candidarmi abbiano voglia di investire su una generazione che in un paese come l'Italia ma gioco forza anche a Borgo San Lorenzo perché siamo un pezzo d'Italia ovviamente si vede relegata ai margini ai margini non solo perché il tasso di disoccupazione è ormai a livelli insostenibili e quindi anche Borgo ne risente in maniera importante ma perché davvero noi abbiamo davanti un futuro e non può che stare a noi costruirlo e in questo dobbiamo impegnarci ecco attualmente insomma al di là del numero dei candidati del partito democratico che conosceremo a breve ci saranno poi appunto gli altri candidati di coalizione sa già chi saranno? No credo che gli altri partiti appunto faranno una discussione al loro interno e individueranno un candidato non so non so se sia il partito socialista che SEL individuerà qualcuno da proporre questo ovviamente non lo so e francamente non sta neanche a me entrare in merito il proposito per i prossimi giorni insomma in vista delle primarie e qui chiudiamo in questo modo sì lo rifletto io voglio partire con un momento di coinvolgimento sui temi aperti di Borgo sulle criticità di Borgo sulle tante cose positive che in questi anni abbiamo visto che sono accadute a Borgo sono state fatte a Borgo ripartire da questo affrontarle insieme e avanzare insieme nuove proposte naturalmente io delle idee già ce l'ho e le ho molto chiare però le voglio condividere e voglio capire anche se queste idee queste priorità sono le priorità anche di tutti gli altri ecco ringraziamo Sonia Spacchini per essere stata con noi qui questa sera e ringrazio voi per averci seguito One to One torna come sempre alla stessa ora buona serata un'altra stessa